Per noi lasciarono è un angelo, perciò chiede faccia il suo corso, ma dopo non mi interessa. Tanto per oggi, per questi giorni lasciarono e basta. Quale era secondo lei la qualità più grande di sua figlia? La semplicità, il sorriso, essere sempre contenta e gioiosa. Non posso parlare, non riesco a dire niente, perché non ho ancora ben assimilato il dolore, perché è il trambusto di questi giorni, però per noi lasciarono è un angelo, perciò tutto quello che posso dire. Tizia faccia il suo corso, ma dopo non mi interessa, però oggi per questi giorni lasciarono e basta. Quale era secondo lei la qualità più grande di sua figlia? La semplicità, il sorriso, essere sempre contenta e gioiosa. Vi ringrazio tutti quelli che sono venuti a fare visita, anche coloro che non hanno potuto. So che la comunità ci è stata vicina, vi ringrazio tutti per questo. Grazie mille. Grazie mille.